L'ama? L'hai ucciso? Grande! Vai, apri quello che vuoi Stai prendendo troppo quota, stai un po' più giù Eh ma, una safe è lontana ancora, oh, ah no Eh ma tu puoi andare anche avanti senza prendere quota, vai solo avanti, vai avanti Eh ma ho tenuto, ho premuto l'indice Io per questa cosa, ho avuto paura eh Sì, per questa cosa voglio almeno 20.000 like voglio Voglio 20.000 like per questa cosa No, madonna meno male, papapapapa, rialzami, 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 corri, 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 corri Ok ragazzi, come avrete capito già dalle prime scene di questo video Questo è un po' il meglio della live speciale per i 100.000 iscritti qui sul mio secondo canale Tra parentesi, io ancora vi ringrazio davvero tantissimo di cuore per questo traguardo Che però non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza per nuovi obiettivi Quindi mi raccomando ragazzuali, se ancora non siete iscritti iscrivetevi Lasciate un bel mi piace per questo speciale e per altri video con mio padre Se vorreste un'altra live con mio padre mi raccomando raggiungiamo i 10.000 like Ci siamo divertiti da matti E queste appunto sono le migliori partite che sono uscite da mio padre Quindi raga guardate il video fino alla fine, fidatevi Perché le scenette che avete visto prima di questa intro non sono nulla in confronto all'intero video Quindi mi raccomando, purtroppo Detto questo ragazzi, mi raccomando 10.000 like Continuate ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto Grazie ancora per i 100.000 iscritti Scusatemi per questa intro ma volevo ringraziarvi e come al solito avvisarvi delle cosucce Insomma, vi lascio al video Dove andiamo? Che ne so Io non so manco mettere il punto, quindi non te lo so dire, non conosco i posti Allora, però se io ti metto il punto tu sai seguirlo? Sì Allora, andiamo qui Stavo lontano, dopo la safe la fanno di qua Vabbè Eh vabbè Mazza quanto era lontano sto punto, però lui Eh ma tu sei bassissimo Eh so bassissimo, aiuto a corso, eh Of course Dove stavo? Ecco È un bot, un bot Adesso hanno a sparare a te E io, io ho sparato L'ho ucciso Ah ok, bravo Perfetto Questo te lo rubo io Ah no, c'è qualcuno Ok, è atterrato Ma come è atterrato? È atterrato, quindi vuol dire L'altro compagno ancora È un altro compagno ancora, sì Dove sto a mettere Ok, l'ho ucciso, l'ho ucciso Che te stai a mettere? E lì nei cosi Vabbè Hai capito Ma hai capito, no? Ah, gli scildini Sì, tra l'altro ce l'avevo anch'io Ma me l'ero dimenticato Dove stai? No, lanciarazzi non sono io Ma da dove? Mi sono nascosto, eh Ma io Ma perché tutti sti bot? Ma che è successo? Ma raga, ma che è sta partita? Ah ok, con lanciarazzi era lui No, tranquillo papà Ma chi sta a sparare? Ah, ce n'è un altro Ma che è? Ma perché è così oggi? Ma che è sta storia? Meglio, meglio Guarda papà Fermo lì Fermo lì Ti diverto Guarda, sono questi qui Prendilo e lancialo Questo qui, questo blu Arriba, ma che è successo oggi Ai server di fortemente? Perché sono tutti Sì, che gioco da pc? Hai visto? Prendi tu quando cadi Questi qua li puoi usare Per buttartelo Sotto i piedi E non prendi danno Ci stanno sparando Ma perché c'è tutta sta gente A corso Regà, ma che è successo? Perché c'è tutta sta gente A corso a merce E sono tutti bot Tra l'altro Boh, regà Vi giuro Non sto capendo Uh, c'è gente papà Vado Qui, 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 qui Ti ho messo il punto Sta nuotando Aspetta L'ho sbagliato tasto Ah, ti dai L'ho gettato un paio di volte Ah no, ma non so Non botta Vai, va, va Distruggilo C'è un lama L'ho atterrato Ma mi sta sparando Il suo compagno Papà ti sta arrivando Da destra Via dietro Da destra Lo senti Dove ti sta sparando Vai, te l'ho messo One shot Papà te lo lascio a te Te l'ho messo One shot Ah, ma questo Chimita però No, allora Fermo, fermo Fermo L'ha ucciso Grande Aspetta Che c'è una roba Proprio interessante Vai, prenditela tutta Oh Fanno la tutta e tutto Questi qua L'ho pushati Ok, no Era da solo L'ho chillato Eh, tra l'altro Uh, questo Bellissimo E mi prendo Il rampino Ma c'è qualcuno Che sta arrivando Però, eh Ah, sì L'ho visti Bravo, questo Non mi fido Stava pure fermo No, eh, questi no Mannaggia Mi hanno preso Chi t'ha preso? Eh, mi ha preso uno Da dietro Da dietro Sì C'è un medikit Ce l'hai un medikit papà? Sì, sì Eh, riesci a tirarmelo giù? Come si fa? Eh, lo devi trascinare fuori Trascinano fuori dall'inventario Eh, che ne so Come si fa lui Col mouse Cliccaci e trascinano fuori Come se devi spostare una cartella sul desktop Eh, il mouse però dove va? Allora, apri l'inventario Devi cliccare Alt block Te sei aperto? Eh, niente Mi ha aperto Siamo preso No, mi ha aperto Lascia a perdere Lascia a perdere Lascia a perdere Ecco Ma non ti sei accorto Che ti stavano sparando? No Ma come no? Era mezz'ora E stavi perdendo vita Eh, niente È finito Dai, vinci per me Dai, 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 dai Ah, ma stanno proprio qui vicino Ah, ma stanno proprio qui vicino Maledetti Eh, non mi lasciano tempo di curare questi, raga Non sono riusciti a saltare Non sono riusciti a saltare Eh, fatemi vincere Non mi spara col... Oh, regà Mi si è impallato tutto Vi giuro Non mi stava facendo più niente Regà Vi giuro Non mi ha fatto niente Si era impallato No, regà No, però perde così No Non ci voglio credere E niente Mannaggia la misera, ragazzi Mi si è impallato tutto Non mi faceva... Non mi faceva né buildare E né utilizzare il rampino Non ci voglio credere, raga Ma che è? Ma raga Non ci voglio credere Non lo butto sto rampino No, perché loro stanno dentro la safe Quindi stanno aspettando a te Ma in realtà non so se erano dentro Stanno aspettando lì No sì no raga sono talmente tanto concentrato che penso che se vuoi parlo io ecco gigi che continua a costruire gli altri a per poco lo prende mannaggia loro sono sempre in due purtroppo io non gli ho potuto dare una mano sto facendo il tifo sembra finale del torneo sembrava finale non lo so uno manca uno eccolo 23 è sceso dici ma ecco lì sotto no se non riesco a capire ora si è sceso che se stava cura si non m'ha sentito madonna mia rega si stava curando si si stava curando allora lo vedi il segno lì tutto a testa ma è però non devo scendere non devo scendere c'è proprio all'ultimo esatto c'è anche prima percorso commercio sei sceso troppo presto capito l'ho aperto troppo prima arriverò tra un quarto d'ora vengo tranquillo ok si si anche se arrivi tra un quarto d'ora vai tu uccidi fai allo yacht dobbiamo andare si allo yacht te l'ho detto lo yacht e no capite grotte io no 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 allora il cavo c'è dentro lo yacht come c'è dentro la grotta come c'è dentro l'agenzia e in tutte le altre zone che ci sono queste dove ci sono ah ok i capo stanno dentro a queste poste esatto oddio dimmi che riesco a prenderlo se non riesco a prenderlo no regà è un casino adesso no 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 è un casino è un casino e qua c'è stata una guardia eh occhio alle guardie papà ah eccolo mi ascolo eh mi uccide ok meno male l'ho atterrato col cecchino no no ci sparano dammi questo e io non trovo armi ma come non trovi armi aspetta tieni papà ecco ecco ti do pure il cecchino va che raga col cecchino papà è il miglior giocatore del mondo no dov'è la safe madonna mia quanto dobbiamo correre per la safe prendiamo l'elicottero eh sì ah è vero è vero prendiamo l'elicottero c'hai ragione no papà attento ah no che qua non sparano va bene raga mi sa che qui al cavo non l'ho mai aperto ma chi ci sta sparando ma da dove ma da lì vabbè mettiamo questi vieni papà vieni qua dentro vai apri quello che vuoi apri tutto quello che vuoi è tutto tuo vai hai visto quanta bella roba mamma mia mamma mia uno studio me lo metto anch'io va tieni ah mettiti i mini shield papà scusa me l'ho diventato di darti i mini shield qua c'era anche l'erba comunque lol raga non ero mai entrato qui nel capo allo yacht vi giuro mai 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 ah poi abbiamo pure il coso per fortuna il deltaplano dove stai? sto sempre qua sto sempre qua dobbiamo andare? eh sì dobbiamo iniziare ad andare hai preso tutte le armi che ti piacciono di più? tutto quello che mi piaceva il cecchino d'oro ce l'hai? no come d'oro io ce l'ho rosso qua eh prendilo qua rosso è viola ok viola ma come c'è c'è altra gente? no per favore non intarmi vieni papà no no vieni a le corri vai guidalo tu allora eh ma come mi itti? mannaggia la miseria guarda come mi itta ma da dove? e che lo vedo è quello lì l'infamotto ecco l'ho purittato va? ma come faccio a arzarmi? eh non lo so col mouse e tastiera non ho più pari d'idea a sinistra dovresti avere i tasti che ti dicono come devi fare vai no no ok vai mamma mia raga non mi sento per niente al sicuro con papà che guida le ricotte ok tanto sai dove devi andare no? no non lo so però vi do la striscia esatto sì sì che è questo segno rosso? non l'hai messo io sì ma non devi solo salire papà non salire così tanto abbassati stai prendendo troppo quota stai un po' più giù eh ma stai lontano ancora ah no eh ma tu puoi andare anche avanti senza prendere quota vai solo avanti vai avanti eh ma ho tenuto premuto l'indice eh lo so stai fermo papà stai fermo vai avanti se iniziano a spararci ci buttano giù e moriamo vai avanti vai avanti e poi abbassati oh adesso sì abbassati premi il tasto che stai premendo prima per sbaglio per abbassare ma non riesci ad andare avanti mentre dai clicca ok bravo perfetto così devi fare a posto perfetto è fermo? sì adesso a terra e basta a terra e basta a terra e basta c'hai paura eh madonna se c'ho paura ok va bene a posto puoi scendere oh mio di raga è stata dura ma ce l'abbiamo fatta io per questa c'hai avuto paura eh sì per questa cosa voglio almeno 20.000 like voglio voglio 20.000 like per questa cosa eh c'era oh mi stanno sparando papà oh eh oh guarda oh no si è abbassato non c'è cioè si è abbassato proprio nel momento esatto in cui gli stavo sparando ma non ci credo l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso però non ci credo ragazzi è abbassato proprio nel momento esatto in cui gli sono andato a sparare sono ripartiti però sì oh ma da dove ah ma da lì ma con la mitragliatrice levano così tanto da lì giù mannaggia ma non ci credo raga ma l'ha laserato sì a me mi ha massacrato che ammazza che manco non me ne so accorto ok l'ho ucciso guarda quello lassù ah son due addirittura allora papà vieni con me seguimi 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 no madonna meno ma papà papà rialzami 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 corri 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 però non mi sono messo intorno a niente eh lo so io non ho capito questo qui come ha fatto a laserarmi così tanto eh ma ci ho pensato io figlio mio bravo papà bravissimo ma tutto oro qui madonna mia regà madonna mia regà sto salvataggio di papà vale tutto vale tutto vale allora no buttami pesci prendi qualcosa al posto dei pesci prendi qualcosa al posto dei pesci così me li butti al volo bravo mamma mia regà mamma mia regà cioè questo qui mi ha laserato non ho capito come cioè che cosa aveva per laserarmi così tanto il coso di mida ma veramente mi lasera così bravo tu usa la mitragliatrice papà bravo si bravo mi sei piaciuto dimmi quando però allora c'è qualcuno qui sotto ho sentito rumore vabbè tu quando vedi qualcuno gli spari con quella eh certo si c'è qualcuno qui sotto allora uno l'ha atterrato perché papà tu sei bravo col cecchino ma ovviamente io ho imparato da te che sei il migliore si bravo non vedo nessuno però eh no è quello lì che ho atterrato voglio vedere dove sta andando ok sta andando lì sotto senti la posto scende papà io sto qui qua sto affedando con questo ok l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso a me mi rimane difficile vuoi guardare due freccette da che parte stai andando no che cosa è successo ma ha preso pieno qualcuno ah si da lì giù aspetta mettiti dietro il muro no ma hai mai ditato l'altro no ma stava lontano eh lo so lo so che sta lontano però mi devi far mannaggia che poi ti ha preso in testa no oh vabbè frate però fatte ah perché sono due niente mo' sono pure incastrato mannaggia la miseria allora uno l'ho atterrato vai uccidili perché io sto a cinque tre no 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 come cinque uno morto no 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 niente questi qua mi hanno fatto veramente arrabbiare questi mi hanno fatto veramente arrabbiare non dovevate farla questa cosa perché poi mi ha anche disparato capito quando ha rotto il muro mi ha disparato maledetti non la dovevate fare questa cosa perché noi stavamo andando alla vittoria tanto tranquillamente insieme dico io non ho mai ballato mamma mia quello come stava sembravo io dai su chiudiamola in fretta sta partita che ci sono rimasto troppo male a chi sta a sparare a me a me ci ha provato che mentre stavo in volo oh mi fanno fuori eh oh cammini però state calmini state calmini mi devo mettere di shield aia aia ma adesso sono rimasti solo loro due si si sono rimasti solo due infatti l'avevo pushata appositamente aia eh questo è un guaio niente io ormai le ultime le ultime partite cioè l'ultima parte di partite mi vado a fare sempre one shot comunque vedendo mi si muovevano pensavo fossero più scarsi invece hanno preso ma hanno iniziato a laser e si quello stava fermo lì mannaggia la miseria oddio no ci stanno le finestre magari mi vedono allora io adesso devo capire questi qui dove sono andati però eccoli lì sempre no l'ho liscia oh ma che c'è ma che mira c'hanno questi qua mi ittano sempre guardali ma c'è un attimo che non build mi ittano subito ma veramente te ew canna jcev la miseria quando l'ho fatta no vabbè e vaffan bene 375 eh certo se ti and'è in testa E non è morto però No no si si che è morto E' il compagno quello che lo sta procurando Ah madonna mia Ok Così si inizia a ragionare Va bene molto bene Ti sei divertito al cavo papà Si al cavo mi è piaciuto Meno male Però credo che da solo non ci potrò mai andare Eh no da solo con tutte le guardie E' un po' un macello Ma io veramente non ho credito Ma quindi quello lì ti ha preso in testa E poi manco stavo fermo Stavo camminando secondo me